Puzza di fritto misto. Wow! E voi avreste lavato i piatti con questo odore? Rilavare! E voglio un volontario. Li faccio io, ma solo con Nelson. Colore argento, ma è tutto nuovo. Nuovo Nelson Carboni Attivi sgrassa a fondo. E con i carboni naturali assorbe anche gli odori più difficili. Nessun odore! Bravissimo! Sì, ma solo con Nelson. Nelson Carboni Attivi. Gli odori vuole eliminare l'uomo. Qualità Enkel.